Nostra invita un bianco a ricevere con un applauso di chi non ha capito ma nessuno di Ristof Pugnani ho detto un favore Izzaline Calister Izzaline Calister Izzaline Calussi insaia ne haci tredu con Luisa Corrat E se calmo tiene su vino Si avстate anche l'opplauso di Ristof Puglia Non è esperto No, come si èota È un libro che bisognava un altro un encouragement Che far бывer Ma risp mentality Puoi tunare un giù E non ci spento Ogni difetto Puglia Versuncare Nonono Puglia Grazie. 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 Grazie.